La gara del coraggio, di chi non vuole sentirsi con le spalle al muro, Vero, Volley, Monza, Sir Safety, Conad Perugia e gara 2 di semifinale Scudetto. Ancora Terorsin battuta, ricezione di Lanza con la palla di torno al campo di Perugia, Colaci, Travis può gestire per Leon, vola alto, altissimo. C'è una rete di testa alla difesa di Olt, ed astuzia, Santi Orduna. La ricezione di Federici, Orduna per Lanza, e di Honorale Stretta per Pilipo Lanza. La rete di Giavono fa la vicina rete, ha una mano Orduna per Maxolt. La rincorsa di Laguncia, Colaci con qualche problema, Terorsin ancora fuori misura, si lottarete, Sole la tiene su in qualche maniera. Leon, arriva il muro del Re Leone, Thomas Beretta a dire no. Va a ricevere Plotinski, una palla forse era destinata fuori, Colaci per Leon, passa contro il muro a tre. 24-22, altro set point per Perugia con Giavorono, che è un missile aria-aria, che termina direttamente nel parcheggio dell'Arena di Monza, e regala il primo set alla Sir Safety Conard Perugia. I settei di Giavorono sulla testa di Orduna, la pipe di Lanza! Che giocata Filippo Lanza! Orduna a salvare la polla, e poi Giavorono! Può scegliere Orduna, va da Galassi! Che muro sole! Federici sulla testa di Orduna, e infatti arriva la denunale strettissima di Filippo Lanza! La plot di Orduna ricevuta da Leon, la difesa di Penny Federici su Plotinski, Lanza con il muro piazzato, decide di rigiocarla. Orduna era a terra, va a servire! Adis Lagomcha, a segno! Per Lagomcha, il sduffo di Colaci, corre Travinsa, si salva Perugia, altra possibilità per Monza, Lanza, Orduna, Giavorono! Palla a terra! Baby Boom! Il sduffo di Colaci, poi Travinsa per Leon, impressionante gesto atletico di Leon. Giavorono, Travinsa a Leon, la copertura di Beretta, altra possibilità per Perugia, ancora Leon. Palla piazzata! Il muro di Dona Speretta, di Renault! Tulane è battuta, Riccetti, Giavorono, la palla si impegna del correre Orduna, va dalla sua parte del mondo, per l'Alza! La chiude lui! Tutto da ripare, si ripartirà dall'uno pari. Questo avvio di terzo, Seth! È in gioco alla palla! Big Boy, Hadou! Lagomcha! Ace! In uscita dal time out! Ace! Per Vilfredo Leon! Rutto, ancora in battuta, battezzata fuori la palla, ma questo è un ace! Riccazione di Giavorono, con la palla che vola via, Lagomcha la va a prendere, lancia da fermo la piazza! Corsa! Giavorono, anche a portare su Plotinsky, palla molto vicina a rete, Travis per Leon, deve cambiare il gesto! Che magia, che magia, Leon! Cadere nel campo di Monza, Lagomcha da fermo! Ed is Lagomcha! Orduna per Lanza, va a morare Solè, chiude la difesa a Colaci, poi Leon prova anche a difendere Lanza, ma ammesso che riesce ad arrivare dove Leon butta la palla. E' molto l'appoggiare sul muro, Travis Salatine su, Colaci per Plotinsky, il muro di Tomas a derezza! La ricezione di Plotinsky, la pipe di Leon, vola altissimo ed elegante, Vilfredo Leon. Problemi in ricezione, ha la possibilità di chiudere Leon, la chiude lui, 31-29! Penna del correre Travis, poi Plotinsky a lavorare la palla! Il muro di Solè a dire no, 24-19! Federici, corre Orduna, va indietro dalla Gomcha, la difesa di Terort, poi Travis va da Leon! La chiude lui, 25-19! Vince la Sirsante Conad Perugia! Apre il portone che porta alla finale, 2-0 nella serie! Grazie a tutti!